Noi usiamo stiliofoni, che fa quasi una brutta parola, no? Allora, per dire, questa è gli strumenti, se vogliamo, per quello che ne riguarda, dei foretti. Perché i foretti, una volta si arrangiava, adesso non che compro e tutta a firmare, e anche strumenti, non funziona. Una volta si arrangiava. E poi che vi ho visto, dove si fa? E poi, le prezise a tutti i miei, se ne ho come in che vi mostre, no? E poi tra i maschi, vorrei. Sarei a te, e vi troppo? E poi, non sono. E poi, non sono, non sono. Grazie. 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 mia monna, che l'aveva in segno a me domanda notizie del corno, perché l'aveva provata in uno studio che l'haga fatta, su una, non sa come la stavano appena la vende perché non so dove, 5.000 anni fa, nel disegno che l'haga aveva un corno, così, per legare lei, questo movimento, la capoluzione, la capoluzione, il registro e il nuovo show, non te la capoluzione, ma lo guarda più.